amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione auto sportive oggi vorrei fare un video visto che caso più unico che raro ho portato la mia vecchia signora come la chiamo la mia auto young timer chiamiamola così in officina per fare un paio di lavori di manutenzione volevo appunto descrivere una macchina per me molto speciale però è una macchina veramente particolare quindi quando capitano queste macchine particolari è anche bello diciamo fare una descrizione che va al di là del discorso della riparazione o del pezzo da cambiare allora partiamo dal concetto questa è una porsche 993 turbo del 1996 quindi è stata costruita nell'agosto del 1996 e immatricolata come porsche italia gennaio del 97 questa diciamo che è l'ultima evoluzione del del motore boxer raffreddato raffreddata d'aria la versione successiva appunto hanno iniziato con la 996 997 992 991 992 e via discorrendo quindi questa diciamo che da un punto di vista per coloro che sono i puristi rappresenta sostanzialmente lo stato dell'arte in maniera particolare la versione turbo che in questo caso usciva con tre tipi di motorizzazioni diciamo la motorizzazione stock che è questa 408 cavalli quantomeno per il mercato europeo perché il mercato americano aveva delle limitazioni usciva con mi sembra una decina di cavalli in meno comunque parliamo di vetture europee questa diciamo il motore stock esce biturbo con due turbine k16 e intercooler e doppio intercooler con 408 cavalli poi c'era la versione su richiesta upgrade fatto dal reparto executive di stoccarda e si poteva richiedere il kit potenziamento a 430 cavalli dove sostanzialmente cambiavano due due cose cambiava la rimappatura del della eq cioè della della centena elettronica e veniva montato un radiatore dell'olio supplementare che più o meno aumentava di circa un litro se passava da 9 chili e mezzo a 10 chili e mezzo di olio quindi sostanzialmente erano quelle due le piccole modifiche fatte e poi l'ultimissime evoluzioni perché questa è la versione turbo c'è stata diciamo una versione particolare che è la turbo s che proprio anche a livello di valore oggi una avere una turbo s ha raggiunto dei valori veramente da 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 quadro da esporre all'ouvre probabilmente in quel caso è diciamo la base la stessa però al turbo s ha tante piccole modifiche che sono che venivano gestite sempre dal reparto executive della porsche in maniera particolare il punto focale era il discorso del motore che arrivava a 450 cavalli con la sostituzione soprattutto delle due turbine quindi dalle k16 venivano montate delle k24 quindi ovviamente con un turbo leg leggermente superiore però rispetto a questa aveva quasi 50 cavalli di più questa è una macchina veramente straordinaria è una macchina impegnativa è una macchina che riesce ancora adesso a fare uno 0 100 in 4 e 2 per dire in quattro secondi e due quindi essendo una macchina di 28 anni direi che penso sia una delle uniche o fra le 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 pochissime che hanno questo genere di prestazioni poi altre differenze della turbo s erano i diciamo la la parte dei parafanghi delle dei parafanghi posteriori con i fori per il raffreddamento delle pinze dei freni le finiture in carbonio all'interno un assetto modificato diciamo che le pinze dei freni gialle al posto che rosse però nella sostanza la struttura era la stessa peccato che una turbo s rispetto una turbo il valore quasi di 1 a 4 più o meno quindi cioè parliamo di cifre veramente molto 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 impegnative parlando di numeri abbiamo diciamo che perché queste macchine qua sono particolarmente apprezzate perché erano macchine fino appunto alla 996 e che erano parzialmente fatte a mano quindi una macchina come questa rispetto le aspirate ne hanno prodotte più o meno 6.500 pezzi in tutto il mondo e quindi ovviamente più è piccolo il numero di vetture prodotte e più ovviamente il valore sale se andiamo a prendere la versione turbo s ne hanno prodotte 364 esemplari in tutto il mondo quindi a maggior ragione chi ha una turbo s è uno dei pochissimi fortunati al mondo già avere una turbo 993 fai parte di una ristretta cerchia ma avere la versione s sei proprio come una 959 insomma diciamo che hai una macchina ancora più particolare comunque già questa è una macchina assolutamente eccellente colore arctic silver quindi l'ultima versione diciamo del colore grigio perché le versioni precedenti avevano il polar silver che era appunto una un colore che dava un pochino più sull'azzurrino su questa macchina praticamente ho cercato di tenerla il più possibile originale diciamo che tiriamo su un attimo il ponte per far vedere ecco diciamo che il lavoro sostanziale che ho fatto la modifica sostanziale che ho fatto è soprattutto sugli ammortizzatori cioè ho cambiato gli ammortizzatori montando i bilsten pss 10 che sono appunto regolabili sia in precarico molla che in compressione estensione dell'idraulica e sono degli ammortizzatori con questa rotellina numerata vedete che faccio una rotellina numerata adesso non la sposto se non mi sballo tutto l'assetto si può variare la compressione l'estensione dell'ammortizzatore quindi questi ammortizzatori qua rispetto agli ammortizzatori bolge originali che erano ormai scarichi quando ho comprato la macchina hanno reso hanno libellato la macchina in maniera perfetta e hanno tolto quello che è una caratteristica che a tanti piace a me non piaceva più di tanto di avere una macchina che con un ammortizzatore non perfettamente carico tendesse a galleggiare un po sull'anteriore quindi quando uno la porta a determinate velocità avere l'anteriore che uscilla diciamo che va a toccare le palle meglio toccarsi le parti basse è molto meglio avere una macchina neutra e uno in questo caso la la guida in maniera perfetta quindi gli ammortizzatori nelle ostituite sono molto contento di averlo fatto aggiunto una barra d'uomi anteriore per tenere chiuso il quadrilatero anteriore per il resto alla macchina è perfettamente originale ci tengo che lo sia comunque i pezzi originali ovviamente me li sono tenuti ecco questo per farvi vedere questo è il doppio intercooler quindi rispetto alla 930 o anche la 964 turbo che aveva un unico intercooler sulla sinistra questo ha due intercooler più piccolini però la cubatura globale superiore a quella delle versioni precedenti doppie turbine quindi il fatto di avere le doppie turbine e la trazione integrale questa è stata la prima versione turbo biturbo a trazione integrale quindi questo dà una sicurezza di guida che le versioni precedenti assolutamente è sempre una macchina impegnativa questo siamo perfettamente d'accordo però avere le quattro ruote motrici con il differenziale torsen diciamo che ha normalmente una ripartizione della trazione al 95 per cento sull'asse posteriore e a un 5 per cento increscendo sul sull'asse anteriore quindi sostanzialmente una trazione posteriore però in quei casi in cui c'è una perdita di aderenza immediatamente la trazione viene spostata dall'asse posteriore dall'asse anteriore e questo crea diciamo una sicurezza assolutamente non indifferente altre caratteristiche di questa macchina sono questi interni molto particolari la prima cosa che viene all'occhio sono questi sedili a guscio che io ho fatto verniciare erano sedili in carbonio che ho fatto verniciare nello stesso colore della carrozzeria e soprattutto l'interno particolare questo è un interno particolare il colore Cartier che poche vetture hanno perché di solito le colorazioni degli interni in pelle erano o neri o blu o grigi interni di questo genere se ne trovano molto molto pochi lo trovo veramente molto particolare molto elegante non entro nel merito di altre piccole cose però diciamo che sostanzialmente la macchina è assolutamente stock con delle piccole migliorie assolutamente reversibili questo è evidente l'ultima cosa appunto per la quale la macchina è qua adesso parliamo magari è una macchina che secondo me è perfetta è difficile trovare una macchina che ha quasi 30 anni dove uno la usa la può usare praticamente tutti i giorni va in box gira le chiavi e la macchina parte sempre sono macchine che non dico non abbiano difetti diciamo che sono quasi perfette quasi perfette ovviamente come tutte le macchine come tutte le cose meccaniche qualche difetto ce l'hanno anche loro allora diciamo che il difetto più grosso di queste macchine che poi accomuna tutte le 993 sono adesso qua si vede poco i coperchi delle punterie che dopo un certo numero di questi coperchi delle punterie qua ce ne sono ben quattro due inferiori e due superiori e qua si vede l'olio che cola e che finisce sul catalizzatore questo è uno dei difetti tipici di queste macchine che hanno questi coperchi delle delle punterie fatti in materiale plastico non è bachelite ma poco ci manca che con l'andare del tempo si svergolano quindi si svergolano e comincia a percolare l'olio che finendo appunto sugli scambiatori di calore crea una puzza di olio tutte le volte che uso questa macchina si sente proprio questa puzza di olio combusto che non è una bella cosa poi ultimamente diciamo sta peggiorando la cosa allora a un certo punto ho deciso di cambiare cioè di sistemare queste ultime cose gli faccio un tagliandone dove appunto cambio candele filtri tutto quanto e gli cambio i quattro coperchi punterie in maniera tale da eliminare spero in maniera definitiva il problema coperchi punterie che avevo già cambiato un po di anni fa però purtroppo questo è il difetto dovrebbero farli in un materiale tipo alluminio un materiale indeformabile non si capisce come mai porsche non faccia questo tipo di diciamo di di modifica e questa diciamo che è il diciamo l'aspetto diciamo la 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 pecca più grande altre pecke questa macchina qua è difficile che ne abbia di solito su macchine più datate questa macchina a meno di 100 mila chilometri quindi non ha il problema ci sono i trapezzi sarebbero da cambiare i trapezzi anteriori in questo caso i trapezzi sono assolutamente perfetti e anche in questo caso una pecca bisogna tirare giù questa copertura di plastica ci sono appunto dei silent block che vengono che non si possono togliere dal trapezio ma viene venduto tutto il trapezio quindi praticamente si butta via i quattro quinti del pezzo perché il trapezio in alluminio è praticamente nuovo per cambiare unicamente le boccole che potrebbero essere sostituite alcuni lo fanno con una pressa particolare quant'altro in questo in questo caso per fortuna mi è andata bene i trapezzi sono perfettamente sani per cui non devo fare quel tipo di lavoro devo solo sistemare appunto la parte posteriore a questo punto già che ci sono metto a posto appunto quello che rimane come al solito olio filtro dell'olio filtri e quant'altro quindi direi che di problemi particolari l'unico veramente diciamo da 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 far notare quello dei coperchi delle punterie per il resto direi che paragonare una macchina del genere la sua diciamo la sua concorrente dell'epoca poteva essere il le ferrari diciamo le ferrari dell'epoca diciamo un 348 tanto per dire un 356 356 ecco bellissima macchina sicuramente ancora più appariscente se vogliamo io non la cambierei mai con una macchina del genere tanto è vero che il valore delle due macchine vale molto più più questa macchina che non una ferrari la manutenzione di una macchina del genere sì chiaramente costoso come tutte le come tutte le le macchine soprattutto di una certa età ma è nei limiti della logica una macchina appunto una ferrari di quell'epoca devono cambiare la cinghia distribuzione ogni 5 mila chilometri e che per cambiare la cinghia distribuzione bisogna tirare giù il motore quindi solo fare la cinghia distribuzione su una ferrari di quegli anni lì partono ancora oggi circa 10 mila euro questa chiaramente alla distribuzione a catena quindi problema non sussiste questa macchina 90 90 mila chilometri esattamente poco più di 90 mila chilometri quindi ora che devo cambiare la la cinghia di distribuzione probabilmente sarò già in altri posti e quindi macchina assolutamente da tenere macchina per coloro che se lo possono permettere è l'unica macchina che ho me la voglio tenere in maniera veramente perfetta e quando finirò di lavorare appunto la 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 terrò in un posto particolare insieme alle mie vecchie moto da regolarità per cui mi farò un angolino con appunto le vecchiette le cose storiche e godrò anche solo a a guardarla a guidarlo guidare in maniera chiaramente rilassata una macchina del genere ormai è più il piacere di guidarle in maniera rilassata che non per dire portarle in pista oltre a una macchina che ancora oggi potrebbe dare del filo da torcere sicuramente a tante sportive di ultima generazione però è molto più bello godersi il suono del motore andando in maniera rilassata che non rischiare di fare dei danni perché sarebbe veramente stupido io spero che questo filmato su questa macchina particolare vi sia piaciuto per qualunque tipo di informazione per tutti coloro che hanno appunto porsche 993 non solo turbo ma anche aspirate il 272 cavalli 286 cavalli vario ram quello che diciamo che le conosco diciamo come le mie tasche più o meno sono a disposizione anche solo per dei semplici consigli per qualunque altra cosa cliccate sulla campanella in basso a sinistra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima